Ben ritrovati nell'aggiornamento quotidiano con le notizie di TV City. Iniziamo con la cronaca. 56enne napoletano fingeva di essere un dentista senza alcun titolo di studio, trovato alla guardia di finanza mentre operava su una paziente, sequestrato lo studio medico e l'attrezzatura specialistica. Passiamo invece all'emergenza sanitaria con le ultime preoccupanti dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ospite ieri sera da Bruno Vespa porta a porta. Il Presidente nel corso della serata ha lanciato un ultimatum grave alla Campania dicendo penultima ordinanza poi chiudiamo tutto. Sempre riguardo all'emergenza sanitaria, punto della situazione sull'ospedale di Bosco Tre Case, da fine agosto operante solo come Covid Hospital. Il direttore sanitario Gaetano Donofrio ha spiegato i servizi sanitari erogati dalla struttura. Discussa invece l'ultima ordinanza del Presidente De Luca dove viene chiusa la movida notturna in tutta la Campania. Ai nostri microfoni abbiamo ascoltato sia gli esercenti sia i residenti della zona porto di Torre del Greco, frequentata ogni sera da tantissimi giovani. I residenti denunciano infatti numerose infrazioni commesse dai ragazzi. Sequestrato a Napoli, nel quartiere di Pianura, uno studio medico abusivo dove un finto dentista effettuava visite odontoiatriche senza abilitazione. In particolare, gli agenti della Guardia di Finanza hanno sorpreso il sedicente medico che operava sui pazienti, privo di titolo di studio e della relativa abilitazione. Oltre al locale, sequestrata anche strumentazione medica di diverso genere, come una poltrona da lavoro, apparecchiature e materiale da uso odontoiatrico, referti radiografici e decine di fiale di anestetici. Denunciato il 56enne napoletano per esercizio abusivo della professione medica e per violazione delle leggi sanitarie, colto sul fatto mentre effettuava una visita ad una paziente. La posizione del falso medico è ora al vaglio delle fiamme gialle per approfonditi controlli anche ai fini di anti-evasione. De Luca, ospite a Porta a Porta, ipotizza ancora la chiusura totale della Campania. Intervento del Presidente della Regione Campania su Rai 1, insieme al Governatore del Veneto Zaia. Stiamo cercando di spiegare a tutti quanti che se vogliamo convivere con il Covid dobbiamo rispettare rigorosamente le regole. O si rispettano le regole oppure si chiude tutto, non c'è alternativa. Riguardo alla sua recente riconferma nelle elezioni regionali, De Luca ha ribadito che la schiacciante maggioranza ottenuta è scaturita da un voto di popolo che ha raccolto il consenso di tutte le persone per bene. Io mi auguro che questo voto sia un segnale positivo per l'Italia, un segnale di unità popolare, di responsabilità. Per dirla in termini molto semplici, la gente ha capito che le nostre famiglie, le nostre aziende, i nostri figli contano cento volte di più delle bandiere di partito. Il Presidente ha espresso la sua preoccupazione per i nuovi contagi e sul diffondersi dell'epidemia su tutto il territorio campano. Sono molto allarmato, non piuttosto allarmato. Io credo che dobbiamo aprire gli occhi e dobbiamo dire con grande chiarezza ai nostri concittadini che siamo già nella seconda epidemia. Non è che deve ancora arrivare, è già arrivata. In particolare, per il Governatore, la criticità maggiore è l'assenza di controlli sulle norme anticontagio. Noi prima di dieci mesi non avremo la disponibilità di un vaccino, se ci va bene fra dieci mesi. Se vogliamo convivere, il sistema di controllo del territorio deve essere rigoroso e capillare. Io rilevo che da due mesi, tre mesi, le forze dell'ordine, da questo punto di vista, sono scomparse. Non è mancato un vero e proprio ultimatum su un possibile lockdown in Campania. Noi possiamo fare due scelte, o andare verso il lockdown, cioè chiudere tutto, ma questo avrebbe ricadute economiche pesanti, oppure decidere di convivere con il Covid, ma questo richiede il rispetto rigoroso delle regole. Però lei ha già detto che fino al 7 ottobre non si possono fare, intanto gli alcolici da asporto non più dopo le 22, poi ha deciso anche che nelle feste non ci possono stare più di 20 persone, quindi c'è stata già una discreta stretta. Questa è la penultima decisione prima di chiudere tutto. Dalla fine del mese di agosto è tornato ad essere la struttura di riferimento dell'Asl Napoli 3 Sud per i pazienti Covid. Ai microfoni di TV City il direttore sanitario aziendale Gaetano Donofrio fa il punto sulla situazione del Covid Hospital di Bosco Trecase e fa chiarezza sulle prestazioni erogate al momento dal presidio ospedaliero. La regione Campania ha attirato la fase A nella quale fondamentalmente inizialmente era solo il cotugno, poi si è passata alla fase B nella quale come prevista la delibera regionale i Covid ospita, cioè ospedali dedicati esclusivamente al Covid, dovevano attivare un certo numero di posti letto e in questa fase B il Covid ospita di Bosco Trecase doveva attivare 37 posti letto. L'ospedale attualmente può contare già su posti letto in terapia intensiva e subintensiva, prevista nei piani dell'azienda una successiva implementazione. Prima dell'indicazione di venerdì scorso di passare alla fase C, già noi avevamo superato i 37 posti letto previsti e attualmente rispetto a quelli che sono previsti complessivamente nel misura di 87 posti letto da arrivare, noi già stiamo sulla disponibilità di questa cifra, il che non vuol dire fortunatamente che tutti i posti letto occupati, soprattutto in rianimazione. In questo momento quanti sono i pazienti ricoverati e quanti in terapia intensiva? Due in terapia intensiva, 14 in subintensiva e 44 in ricovero ordinario. Quindi sicuramente è prevista, come lei diceva Pocanzi, un'implementazione di posti letto, quindi al momento però la disponibilità di posti letto a quanto arriva? Sono 13 in rianimazione, sono 20 in terapia subintensiva e sono 52 in ricovero ordinario. Noi puntiamo, diciamo in alcuna settimana, di aprire altri 12 posti letto, ma già adesso come vedete i numeri sono superiori a quanto previsto dalla fase C. D'altra parte noi puntiamo sul poter offrire il più possibile alla platea degli assistiti questa disponibilità in modo da non ingolfare i pronto soccorsi, perché in questa fase, a differenza della fase del lockdown dove nel pronto soccorso andava solo chi veramente stava poco bene, in questa fase invece accessi ai pronto soccorsi sono tornati alla fase pre-covid, per cui abbiamo 160, 180 accessi al giorno a Castellammare, 150, 170 a Nola. E quindi ovviamente coloro che vanno in pronto soccorso per un meccanismo di pre-triage vengono comunque diagnosticati, per cui se risultano con le IgG o le IgM positive si fa il tampone. E quindi molti positivi vengono così individuati che questo permette a una parte di non inquinare i reparti perché vengono bloccati giù l'area covid e il pronto soccorso come sospetti o come positivi. Quindi in questo momento che ci si augura sia soltanto temporaneo, l'ospedale di Bosco Trecase è dedicato solo a garantire l'assistenza ai pazienti covid, quindi al momento tutte le altre attività di questo ospedale sono ferme. Le attività per pazienti non covid. Voglio chiedere una cosa fondamentale. L'ospedale di Bosco Trecase, come già fatto nella prima fase del lockdown, garantisce prestazioni a vasta gamma, quindi non solo la terapia per quanto riguarda i pazienti covid, ma anche interventi che possono essere sia di emodinamica, per capirci. Abbiamo avuto sei casi di infartuati covid positivi, interventi ortopedici, se dovessimo avere un fratturato urgente covid positivo. Quindi quello che forse non si riesce a spiegare bene è che l'ospedale covid dà prestazioni che non sono solo di natura internistiche o rianimatorie, ma solo per i pazienti covid positivi, laddove in caso di urgenza e emergenza anche altre prestazioni. Mentre per quanto riguarda tutte le prestazioni, esse non possono essere dedicati ai covid negativi. L'ultima ordinanza firmata dal presidente De Luca ha fermato la movida notturna in Campania. Abbiamo ascoltato i titolari di barre e locali della zona porto di Torre del Greco, frequentata dai giovani ogni sera. Dalle loro parole emerge tranquillità circa le nuove disposizioni e fiducia nel comportamento responsabile dei clienti. Ieri il presidente della regione Campania ha firmato un'ordinanza con cui ferma la movida notturna in tutta la regione. Come cambierà per voi il lavoro serale? Il lavoro serale innanzitutto alle 22, stop alcolici al banco e anche da sporto. Per il resto cerchiamo di cavarcela nel migliore dei modi. Ce la faremo. E secondo lei cambieranno le abitudini, soprattutto i giovani che vengono in questo posto la sera? Credo di sì. Sarà un po' dura. Tutti i ragazzi preferiscono bere qualcosa la sera. Tutto cambia. Ci ferma totalmente. Sono tanti i giovani che vengono la sera? Ma no, perché qua ancora si mantengono ancora a rispettare le regole, perché capiscono che stiamo ancora in pericolo. Me ne accorgo perché anche tra di loro, prima si scambiavano anche i bicchieri, ma invece si tengono proprio... innanzitutto vogliono tutti in monouso. Quella è la prima cosa. Vedo che anche tra di loro mantengono delle regole. Non tutti, ma la maggior parte sì. Sicuramente cambierà qualcosa per il numero di clienti che possiamo ospitare. perché chiaramente c'è la limitazione di sei persone per tavolo, il distanziamento fra tavolo e tavolo, quindi non potremo prendere prenotazioni di gruppi superiori a sei persone. Oppure dovremo prendere, però poi dovremo fare tavoli distanziati tra di loro. Quindi sostanzialmente diminuisce il numero di coperti che possiamo eventualmente ospitare. I giovani in zona la sera rispettano le varie norme anti-contagio? Allora, coloro che vengono da noi siamo molto attenti a fargli rispettare la mascherina prima di entrare, il gel per disinfettarsi le mani, misuriamo la temperatura, registriamo i nominativi con i documenti, cerchiamo di rispettare le regole imposte. Chiaramente, qualche ragazzo si dimentica la mascherina, abbiamo acquistato anche le mascherine per fornire clienti, cerchiamo di tamponare eventualmente qualche ragazzo che non è attrezzato per rispettare le regole. Quindi per lei è giusta questa ordinanza, non è eccessivamente drastica? Non siamo esperti di Covid, quindi noi dobbiamo rispettare le regole perché ci vengono in qualche maniera imposte. Poi sperando che questa cosa, man mano che si va avanti, diminuisca, esca il vaccino, insomma tutte queste cose che già diciamo normalmente. Ieri il Presidente De Luca ha firmato un'ordinanza che ferma la movita notturna in Campania. A voi cambierà qualcosa? No, non cambia nulla, però vorrei solo sapere perché fino alle 10 di sera i locali che chiudono tardi, perché purtroppo oggi la movita è così. Cioè, solo per tanto vorrei sapere come funzionano gli orari per bene e poi soprattutto perché solo è iniziato con i bar e non altri locali. Invece, alcuni residenti si sono dichiarati preoccupati riguardo la movita notturna. Ai nostri microfoni hanno denunciato comportamenti irresponsabili dei giovani che frequentano la zona ed espresso forte timore per le conseguenze sulla situazione epidemiologica. Lei è residente in zona? Sì. Com'è la sera qui con la movita e i ragazzi? È molto movimentato. Secondo lei rispetta non le varie norme? Non rispetto niente perché senza mascherini si riesce a non finire una giuna. Quindi pensa sia giusta l'ordinanza che ferma la movita? Penso proprio sì, perché se no ci rimane un'altra volta, però ancora peggio. E secondo lei bisognerebbe arrivare addirittura alla chiusura di tutto? Sì, sono cinque anni a molto quanto. Se non peggio di una prova, non probabilmente si pensa che questi vagi uno e qui ci rimane un'altra volta. Noi della zona, del quartiere, cerchiamo di mantenerci nel miglior modo possibile le mascherine, le distanze, tutte queste cose qua. Ma purtroppo la notte, la movita questi giovani, purtroppo i locali sono handicappati anche da queste cose qua. Un bel momento che cosa devono fare? Dovrebbe intervenire un poco le ordinanze, le polizie e le robe per farle capire a questi giovani. Ma purtroppo non lo vogliono capire e ne pagheremo noi le conseguenze con i noi anziani a casa. Perché un ragazzo che viene a casa, che prende queste cose qua, ci infettano noi che siamo gente anziana, ci abbiamo delle cose che non siamo bene. Purtroppo si dovrebbe fare qualcosa di nuovo. Purtroppo non possiamo dire che De Luca è uno sceriffo, è un controllo, ma purtroppo è la situazione che è grave. Ci dobbiamo rassegnare, specialmente noi anziani, dobbiamo invulcare ai giovani queste cose. Ma purtroppo i giovani sono fatti così. Grazie per la cortese attenzione. Per info e segnalazioni, redazione chiocciolatvcity.it A domani per un nuovo Tg. A domani per un nuovo Tg.